Altyazı M.K. ma grazie a un po' un po' come via tra i rossi vittà tu ne so che c'ho nata di viva seriano svega di camie visto se non voglio vico zamierà più che c'è su saprera da reclamo e anche il problema il voce che ne ha giusto ho dovuto visto che vabbì Poi, che trascano tutti i nostri inviti e non sono bene se la mia, se non è stata fravesse, da quello che non dovrebbe poter più sardeggiare. Fatti buono di capirà, costa fuori a rischano a bobar, semmo, si tu volavi così, niente perché è la del regnamento. che sazionate il tono merio, che sazionate il tono immobili assi viene il tipo che vuoi pensi oggi o oggi è e con la chiave che ne parla, può definirà un solo ciclo per la vita, con le nostre aburruto che si è il mio che è il mio profilo, che è il tuo natale che va a vire lerati grazie molto, buongiorno vediamoci anche nel nostro festivale e soprattutto nell'azurato che veniamo esclare se TRÕI prima di a tutti buongiorno grazie grazie